Un'edizione da record quella del World Congress of Dermatology organizzato a Milano. Nella splendida cornice del Convention Center a Fiera Milano City, medici e specialisti provenienti da tutto il mondo hanno potuto confrontarsi e aggiornarsi su una disciplina che cambia pelle tra innovazione diagnostica e terapeutica grazie alle numerose sessioni plenarie organizzate durante la manifestazione, nelle quali è stato difficile in alcuni casi poter accedere tutti vista la mole di visitatori. Per far fronte alle numerose richieste di partecipazione sono state allestite altre sale in cui seguire le conferenze mediante auricolari e video streaming. L'intero meeting è stato dedicato alla memoria di Sergio Chimenti, a capo della Dermatologia dell'Università di Roma Torvergata, prematuramente scomparso nel febbraio del 2016. Fu lui a seguire e centrare l'obiettivo di riportare il World Congress of Dermatology nel bel paese dopo 47 anni. In vetrina al Summit nuovi farmaci appena introdotti sul mercato. Abbiamo farmaci biologici nuovi che quindi colpiscono nuovi meccanismi del segnale nel campo della psoriasi, abbiamo nuovi farmaci biologici nella dermatite atopica, ma li abbiamo anche nei tumori cutanei, quindi nel melanoma e nei tumori non melanoma. Ci sono particolarmente in questo momento storico per la dermatologia tantissimi nuovi farmaci. Lo potremmo definire davvero una rivoluzione da questo punto di vista. La dermatologia cambia pelle, questo è il tema principale del Congresso Mondiale organizzato a Milano. Cambia pelle perché in questo mondo ci sono nuove molecole in arrivo che sono sempre migliori nel dare risultato, sempre migliori ad ottenere una sostanziale pulizia completa dalla manifestazione dermatologica in profili di sicurezza estremamente elevati, quindi senza alterare altre cose, senza dare altri effetti sull'organismo. Dal World Congress of Dermatology arriva anche un messaggio forte e chiaro rivolto a tutto il mondo. Non importa da dove tu venga o chi tu sia, l'importante è che tu possa ricevere e avere accesso alle cure di cui hai bisogno. Non ci devono essere quindi distinzioni di nazionalità, ceto sociale o genere, ogni essere umano ha lo stesso diritto in ogni parte del mondo. In questo senso la dermatologia deve prendersi cura della salute a livello globale perché è legittimo per le persone di tutto il mondo poter usufruire delle migliori cure per la propria pelle.